Quindi il nostro movimento si perfige sostanzialmente il raggiungimento e il perseguimento di tre importanti obiettivi che come dicevo sono la tutela dell'ambiente, la difesa delle specie animali e il sostegno degli artisti e dell'arte. Tre importanti obiettivi che secondo noi sono gli elementi importanti mediante i quali potrebbe essere dispensabile spinta propulsiva, posizione necessaria per un completo processo di sensibilizzazione. Un processo di sensibilizzazione che darebbe vita ad una solida piattaforma, valori etico-morali quali il rispetto per il pianeta, il rispetto per tutte le foglie di vita che lo risiedono, il rispetto per la natura, il rispetto per tutti gli esseri che la animano, il rispetto per i diritti delle donne, il rispetto per i diritti degli uomini, il rispetto per i diritti degli anziani, il rispetto per i diritti dei bambini, il rispetto per i diritti diversamente abili, il rispetto per la democrazia, il rispetto per la Costituzione, il rispetto per i diritti di libertà. I diritti di libertà che devono appoggiare su una terra fatta di reti sociali di protezione, cioè di welfare. Quindi noi del movimento denominato della natura e dell'arte proponiamo una politica che potenzia il welfare, che potenzia l'assistenza sanitaria, che potenzia l'assistenza di invalidità, che potenzia l'assistenza di vecchiaia, che potenzia la pubblica visione, che potenzia i ritenziati, l'illupazione, che potenzia i sussidi per quelle famiglie con reale stato di bisogno e di necessità, che potenzia i successi delle risorse culturali, quali biblioteche, musei, tempo libero, circuiti multimediali, informativi. Quindi noi nel movimento denominato della natura e dell'arte vogliamo costruire con la gente e per la gente, portando avanti un corretto rapporto fra struttura e sovrastruttura attraverso i meccanismi della partecipazione, attivando e implementando in termini di efficacia e di efficienza la confluenza verso obiettivi comuni. Quindi noi riteniamo che sia giusto il momento di aprire una nuova pagina in cui il bene della comunità deve criticarsi con il bene di ogni uno e di noi, nessun escluso. Quindi una firma per salvare la Liguria, una firma per cambiare le sorti della Liguria, quindi una firma per il movimento denominato della natura e dell'arte. Grazie.